Stasera abbiamo qui la sua madre che mi ha voglia di raccontarci di qualcosa di amassato. Sì, devo assolutamente liberarmi di un peso, di un qualcosa che è corto di me. Devo farlo perché mi sento assolutamente un bisogno. Sì, devo comunque pensare che ho mangiato lì l'ultimo torneo. Beh sì, questo vorrei dire forse anche il disagio di non vivere con una cosa del genere, con i parenti. Vedete che sarà difficile non trovare il fatto, a miei amici, che sono più cari, più vicine, il fatto che io comunque, misi bassi di Pasadini, Stivecce, Saladini, Dottune, Pasadini... Grazie. 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 Grazie.